Sofì Codegoni non perde occasione per sbandierare il suo amore per Alessandro Basciano, la loro storia nata sotto gli occhi indagatori delle telecamere del GF VIP, dopo aver affrontato diversi venti burrascosi sembra veleggiare sospinto da una placida brezza. La relazione tra i due ex Geffini pare aver convinto anche chi osteggiava il loro rapporto per questioni legate al carattere ed al trascorso personale dell'imprenditore ligure. Infatti i genitori dell'ex tronista di Uomini e Donne non hanno nascosto le loro preoccupazioni nel vedere la figlia avvicinarsi sempre di più a Basciano. Dopo mesi di relazione i fatti hanno fatto cambiare idea ai genitori di Sofì Codegoni che sono stati destinatari di una missiva firmata dalla figlia ed affidata alle pagine del settimanale di più. L'ex Geffina ha deciso di fare una volta per tutta chiarezza sulla sua relazione con Alessandro Basciano, rivolgendo ai suoi genitori alcune parole. Infatti la lettera non è solo una dichiarazione pubblica del suo amore per l'imprenditore ligure ma è anche stato un momento per precisare la posizione dei suoi genitori che inizialmente hanno rivolto delle raccomandazioni all'ex tronista, invitandola ad essere cauta nel relazionarsi ad un uomo più grande di lei con un passato non tranquillo a livello sentimentale. Nella lettera che Sofì ha indirizzato a papà Stefano e mamma Valeria, con i quali ha un rapporto molto confidenziale, l'ex Geffina ha scritto loro, vi siete preoccupati perché ho già sofferto nella vita, perché qualche tempo fa un uomo ha fatto del male alla mamma. Da allora ho iniziato a non fidarmi più degli uomini. Solo Alessandro, con la sua dolcezza, è riuscito a farmi cambiare idea. Con lui sono serena. Sofì anche se ha ascoltato i consigli materni e paterni ha deciso di viversi liberamente la storia con Basciano confermando ad oggi di essere felice e soddisfatta del rapporto. Dopo aver vinto le riserve dei genitori, che si sono convinti che la figlia abbia trovato stabilità e felicità in amore, la coppia di ex Geffini non perde occasione di proclamare i propri sentimenti e per ora la loro storia procede a gonfie vele. Con le sue parole Sofì Codegoni ha comprovato di aver archiviato le frizioni con i suoi, riuscendo a fargli cambiare idea sulla sua dolce metà.